Nella commedia Dante cita alcune località della Marittima. Il territorio che va dalle pendici dei Colli Albani e attraverso la pianura pontina giunge fine a Terracina e che nel Medioevo corrispondeva a quello delle diocesi di Velletri e Terracina. Oltre al Cerceo, il promotorio che lega al viaggio di Ulisse, è infatti ricordata Astura, dove si perpetrò il tradimento di Corradino di Svevia da parte dei Frangipane e infine l'Abbazia Cistercense di Fossanova. È proprio a quest'ultima che farò qui riferimento, rievocando quello che possiamo senz'altro definire un vero e proprio giallo del Medioevo. Nel canto ventesimo del Purgatorio, ambientato nella quinta cornice dove sono puniti gli avari e i prodighi, per bocca di Ugo Capeto, Dante attribuisce la morte di Tommaso d'Aquino a Carlo I d'Angio. In questo modo, il poeta recepiva quella che era una voce che circolava nella sua Firenze, e cioè che fosse stato il re Angioino a volere la morte del teologo dominicano. Come è noto, Tommaso d'Aquino si era spento il 7 marzo del 1274 nel monastero Cistercense nei pressi di Priverno. Caduto gravemente ammalato nel vicino Castrum di Mavenza, dove si era fermato per far visita alla nipote Francesca, mentre in viaggio si regava da Napoli a Lione, dove si sarebbe dovuto svolgere il concilio, l'ha convocato da Gregorio X, egli aveva infatti deciso di trascorrere gli ultimi giorni della sua vita all'interno dell'abbazia. A distanza di alcuni decenni da quegli avvenimenti, presero tuttavia a circolare una serie di testi nei quali si sosteneva l'ipotesi che il teologo dominicano fosse stato assassinato per ordine o almeno con il benestare del sovrano. Tracce se ne trovano sia nel testo di Dante che nella nuova cronica di Giovanni Villani. Nella sua opera il cronista fiorentino attribuisce ad un fisiziano, ovvero sia ad un medico del re Angioino, la responsabilità di aver fornito dei confetti avvelenati al teologo dominicano. Tutto ciò all'insaputa del re Carlo, al quale era sicuro tuttavia di fare un favore dal momento che la famiglia d'Aquino era notoriamente una casata ghibellina. E oltretutto c'era il rischio che proprio nel corso del concilio di Lione Tommaso d'Aquino potesse essere nominato cardinale dal Papa e questo avrebbe provocato certamente, a detta di Villani, un gran danno al re di Napoli. La responsabilità di aver fatto uccidere Tommaso d'Aquino viene riconosciuta nel suo commentarium anche da Pietro Alighieri, il figlio del poeta. Egli infatti, glossando il testo del padre, non induggia nell'attribuire appunto al re Angioino la morte di Tommaso per il timore che questo potesse addirittura divenire Papa, come si credeva, dice. Senz'altro più fantasiosa e colorita al tempo stesso è la versione accreditata da un altro commentatore della commedia, Iacomo della Lana. Secondo questi, l'avvelenamento sarebbe avvenuto sempre per merito di un medico di Carlo d'Angio, che tuttavia avrebbe agito in una maniera alquanto singolare, ovvero sia ungendo con un veleno il gabinetto sul quale sarebbe dovuto poggiare il teologo dominicano, che in questo modo avrebbe assorbito attraverso l'epidermide la sostanza benefica che l'avrebbe portato alla morte. Ultimo tra i commentatori danteschi del 300 ad attribuire la responsabilità della morte di Tommaso d'Aquino a Carlo d'Angio è l'anonimo autore dell'ottimo commento. Egli attribuisce la morte però non ad un medico, ma ad un cavaliere del re, che credendo di fare un favore al proprio sovrano, raggiunse Tommaso che dice erroneamente all'epoca doveva recarsi alla corte di Roma, quindi alla corte papale, mentre sappiamo che in realtà la sua destinazione era Lione, portando con sé dei confetti freschi che avrebbero dovuto ristorare il dominicano dal caldo asfissiante che lo accompagnava in quel viaggio. Altra cosa inesatta, perché sappiamo che il viaggio invece si svolse tra febbraio e marzo. In definitiva, Dante assunse come veritiere delle informazioni che abbiamo detto erano di matrice antifrancese e non solo le accolse nel suo poema, ma contribuì anche a loro perpetuarsi nel tempo. Come abbiamo visto, numerosi furono infatti i commentatori che addussero ulteriori elementi capaci di giustificare la voce che Dante aveva raccolto, ma del tutto infondata. In definitiva, d'accordo con Roberto Greci, si può dire che la storia nella commedia non è quella fattuale, sistematica, scientifica a cui siamo abituati. È una storia che da un lato serve la politica, o meglio la passione politica, e dall'altro è testimonianza di un pensiero individuale. Ebbene, quella di Dante è una storia al servizio della sua ideologizzazione della politica.